Del telefono! E che? Che caschi! Stai un po' qui via! Babbo, c'è un lavandero fascista! Se no non è scritto fascista! Perché sono pezzi di merda! Merdacce! Quella va, quella va! Che strozzo! Sono proprio pezzi! Sono proprio pezzi di merda! Sono proprio pezzi di merda! Sono proprio pezzi di merda! È così! 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 Siamo arrivati per l'alto. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.